Prima di tutto, benvenuto. Quali sono le prime sensazioni da giocatore della Roma? Ho avuto sicuramente bellissime sensazioni. Ho già incontrato i miei compagni che mi hanno accolto benissimo. Tutto l'ambiente qua mi ha accolto benissimo, sia dai tifosi che dalla società che dai compagni. Mi sono subito integrato bene, penso, e adesso speriamo di andare avanti così. Durante quest'ultimo mercato sei stato accostato a molte squadre, però che cosa ti ha convinto a scegliere la Roma? Della Roma mi hanno convinto la società, il mister, lo staff, anche la squadra. Una di queste è anche il calore dei tifosi. Tutte queste componenti hanno fatto sì che io scegliesse la Roma. Hai già svolto anche il tuo primo allenamento, hai avuto l'opportunità di conoscere Paolo Fonseca. Che cosa ti ha detto il mister? Ho già parlato col mister. Stamattina mi sono allenato con loro e mi ha fatto subito una bella impressione. Mi ha già spiegato un po' come funziona, come vorrebbe che io giocassi. Sicuramente col tempo impareremo insieme a parlare e magari a vincere insieme. Ironia del destino, la prima avversaria sarà proprio la tua ex squadra, il Verona. Che esperienza è stata per te? Sì, per me Verona è casa e lo rimarrà per sempre. Ringrazio tantissimo la società, i miei ex compagni e soprattutto anche i tifosi che mi hanno aiutato in questi anni a crescere e sicuramente non li dimenticherò mai. Verona dove hai mostrato nel corso della passata stagione caratteristiche che si sposano con le necessità di una grande squadra, aggressività, senso dell'anticipo, personalità. Quale pensi che sia la tua qualità migliore? Penso che tutte queste qualità sono una delle mie caratteristiche, l'anticipo comunque di essere aggressivo. Mi reputo un difensore che prima pensa a difendere e poi ovviamente anche a giocare. Anche perché sei giovane, hai soltanto 20 anni, in cosa pensi di dover migliorare? Ma sicuramente essendo ancora giovane ho tantissimo da migliorare. Secondo il mio punto di vista devo migliorare sul punto dell'impostazione, del piede debole. Credo che queste siano le cose da migliorare assolutamente. E nel frattempo hai conquistato anche la maglia della nazionale? Sì, la maglia della nazionale l'ho conquistata l'anno scorso, l'ho esordito a ottobre. Spero di essere convocato ancora e di cercare di magari portare la mia nazionale a traguardi importanti. Nazionale, che poi è un motivo in più anche per fare bene con la maglia della Roma. Sicuramente, io adesso sono super felice di essere qua. Il mio obiettivo è quello di cercare di aiutare i miei compagni, aiutare lo staff a migliorare, a cercare di vincere più partite possibile. E questo si fa solo se cresciamo tutti insieme. E c'è qualcosa che vuoi dire proprio ai tifosi della Roma? Io ai tifosi della Roma li ringrazio intanto per l'accoglienza e sicuramente io darò qualsiasi cosa, darò il massimo per cercare di vincere e di esultare insieme a loro.